E queste scusa? Non avevi fame? Sì ma non intendevo questo Eh adesso te le mangi No non mi puoi fare questo Ciao a tutti ragazzuoli Io sono Fancy Mi starete domandando Perché hai tre pizze davanti? E che ne so io Come avrete capito oggi quindi le dovrò andare a mangiare tutte e tre Ce la faremo ma neanche per sbaglio Ma per incominciare vorrei salutare Non sei ancora iscritto? Tre pizze cioè ti devi scrivere All'istante No sono già pieno Ma per incominciare vorrei salutare quattro persone che mi hanno chiesto di salutarle Che si chiamano? Lucas45, ItalianTVWolf, Michaela Cristea e Vicky Signorelli Ciao ragazzi E ora andiamo alle presentazioni A livello 1 troviamo una margherita Per stare Leggeri Al secondo posto invece troviamo Bius e le patatine Una bomba della vita però vabbè E al terzo invece troviamo la capricciosa Che dentro non so neanche che cavolo c'è Funghi, prosciutto Ok Direi che possiamo Andare A morire Spero sia almeno buona perché già è un casino Madonna che fettazze Buon appetito Ah È buona La prima è andata Abbastanza facilmente ma È una margherita Ok Andiamo con la seconda Con la seconda Con la seconda Ho voluto finire la seconda Ne sono già sazio La pizza è già praticamente finita Allora che fettazze Ma Cosa È la mia testa Sono le croste il problema Allora che sete che c'ho Questa è la prima A posto Vabbè questo pezzettino Pure Ma che fai Non ti pare Manca solo questa Non sono pieno Io avrei finito È diventata secca Finita la margherita Cretino Ma dai Mi usa le patatine Un tovagliolo per favore Vi volete dire che questa è un'unica fetta? Buona Quanto è devastante Voglio almeno 100 milioni di like a questo video Se ne danno 100 è già troppo Io sto soffrendo Possono mangiare le croste Che mi stanno riempiendo di brutto No Mangio dopo Mi vedevo l'ora Un'altra fettazza Spaventosamente gigante Cioè no vabbè ragazzi Come fa a essere così grande? Ma cosa? Sei un animale madonna Cosa? Sto lasciando le croste Un altro pezzo è andato Per fortuna che almeno sono buone Perché sennò veramente Era imbarazzante la cosa Ne vuoi una fetta? Due anche Adesso io mi faccio una corsetta Via Passa tutto È gommosa Non hai prove Acqua La sofferenza Lo giuro E anche la seconda Diciamo che è andata Ma le croste sono improponibili Sono gigantesche Tutto è secco Dai basta Mangi anche le croste Sto sudando È schifo Che faccio Se fossero state tre margherite Non era difficile Però Quanto è grande questa? No Stiamo scherzando? La panza ragazzi Che no di gatto È fredda Ma schifo pure C'è già è difficile È pure fredda No vabbè No no lo stomaco forte Sto crepando io È la crosta? Le lanci al gatto Quale è il gatto? Non lo so Lo compriamo E gliele dai a mangiare Voglio vomitare Va bene Dai Ce la si fa Fino alla morte Che è molto vicina Non sento più il sapore Però sono Bravo eh Un cuore fa sicca Un vomito nel bicchiere Mangio ancora questa E poi Non sono abituato A mangiare così Sto muorendo Non fatelo a casa Questa È per voi ragazzi Vi voglio bene Sono stato bravissimo Alla fine non ce n'è tantissimo È stato fantastico Comunque Spero che il video vi sia piaciuto Se così fosse stato Vi invito a lasciare Un bellissimo like Vi ricordo inoltre Che in descrizione Tu avrete tutti I link dei miei social Instagram Facebook E Google Plus Quindi se volete Seguitemi su Instagram Alla c'è don ben Mi piace la pagina di Facebook Iscrivetevi al canale Per supportarmi E io ragazzi Vi do l'appuntamento Ad un prossimo episodio Ciao ragazzi Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti